mi hanno detto che avete comprato una cucina in un negozio creo si ma vede è inaccettabile è inaccettabile che non mi portiate con voi entra in uno store di cucine creo troverai soluzioni di qualità e su misura da oggi garantite cinque anni garantisce il gruppo lube grazie Grazie per la visione!